Marco, ma tu mi ammi ancora? Dico sul serio. Adesso mi detesto per gli stessi motivi per cui prima le piacevo. Sono la moglie di Marco, sono la madre di Tommaso, ma io dove sono finita? Ma che cazzo vuoi dalla vita? Ma cosa ti manca? Ma perché non sei mai contenta? Io non sono felice, e neanche tu. Ha detto che sono stato bravo, quindi andiamo dai vichinghi! Quindi si parte? L'abbiamo promesso a Tommi e non vogliamo deluderlo. Ma come si fa a continuare ad amarsi? Non so, io non ho mai amato nessuno tranne te, e non ho mai smesso. La felicità è sopravvalutata. E invece è la sensazione che ci stiamo perdendo delle cose, che ci siamo fermati, che nella vita c'è tanto altro. Anna, ma guarda che sei tu che vuoi divorziare. Perché tu non vuoi cambiare? Ma perché tu sei cambiata? Ma ti sembra la stessa ragazza che ballava a scarsa alle feste! Purtroppo no. Chiediti perché. Ma secondo te l'amore è finita? Mi spiace che non sono riuscito a renderti felice. La moglie forse me la sono giocata, vero? Ma io l'amo ancora. Ma il sole non si vede! Ma le cose non vanno sempre come le abbiamo programmate. Mi spiace che non vanno sempre come le... Mi spiace che non vanno sempre come le abbiamo... Mi spiace che non vanno sempre come le persone... Ma l'amore è finita? Mi spiace che non vanno sempre come le sono delle modelli... Grazie per la visione!